che cosa importa nella vita allora se tu chiedi una persona senza cristo risponderebbe con qualcosa legata alla vita terrena una cosa superficiale avere tanti soldi o belle esperienze una cosa bella la famiglia o la salute ma sempre qualcosa è legato alla terra ma chi è un vero figlio di dio chi ha ricevuto il perdono la salvezza in gesù cristo e sa per mezzo dello spirito del giudizio e dell'eternità se pensa veramente dovrebbe rispondere che quello che importa veramente è la salvezza in gesù cristo e poi come parte di quello la crescita per chi è un figlio di dio la cosa più importante nella vita è la crescita crescere ad assomigliare di più gesù cristo per avere una vita che porta frutto questa è la cosa più importante qual è il ruolo principale del marito un non credente un buon uomo dovrebbe provvedere per la famiglia ma se guardiamo le fessine cinque il merito che deve amare la moglie come cristo ama la chiesa e cosa fa cristo soprattutto santificarla santificarla i genitori quella è la cosa più importante aiutarli a crescere bene per avere un buon lavoro no allevarli nella disciplina la monumento del signore trasmettere dio a loro e quindi la cosa più importante è quello che è legato all'eternità e se noi non stiamo crescendo non avremo frutto e se noi non abbiamo frutto non avremo la gioia della salvezza non la vera piena gioia gesù in giovanni 15 spiega come dimorare in lui per portare molto frutto e poi dice vi ho detto queste cose finché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa vuoi completa gioia dimori in cristo per portare il che comprende crescere 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 non essere preso con le cose del mondo compie le cose necessarie ma essere preso con l'eternità la crescita è un segno di vera vita la crescita è fondamentale ma la crescita non arriva automaticamente che cosa serve per crescere consideriamo insieme la crescita è mega importante ma che cosa serve per crescere allora come base serve vedere sempre più di dio e vedere sempre più i nostri peccati per confessarli perché la crescita effettivamente vuole diventare più come cristo devo vedere cristo ma devo vedere tutto quello che mi ostacola da essere come cristo quindi il mio peccato per per poter vedere più di cristo per poter avere fede per poter vedere i miei peccati mi servono gli altri mi servono gli altri mi servono i doni spirituali degli altri che adoperano i loro doni nella mia vita come io devo adoperare i miei doni nella vita degli altri dio ha stabilito la chiesa locale come base come parte fondamentale ed essenziale per la crescita di ogni credente senza la chiesa locale nel piano di dio non è assolutamente possibile la crescita che dio intende ci sono casi eccezionali tipo un credente che viene messo in carcere isolato da altri credenti a causa della sua fede e dio a quel credente sosterà quel credente con una grazia speciale che non dà a noi perché noi non siamo in carcere e noi abbiamo accesso ai mezzi normali che dio usa quindi normalmente la grazia che dio ci dà per poter crescere viene principalmente come vedremo dalla chiesa locale e vogliamo vedere questo quanto è importante che la chiesa locale sia sana e fedele fidandosi di dio camminando con timore di dio come dio insegna quanto è importante che la chiesa sia quello che dio intende che vogliamo vedere di più allora un brano che conosciamo voglio riguardare effessini 4 11 a 16 vedremo vari brani che puntano sempre nella stessa direzione effessini 4 11 a 16 certo capire che la chiesa locale è essenziale leggo dal 11 egli qui è Gesù Cristo ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli altri come profetti altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del fede di dio a un uomo perfetto alla misura della struttura della pianezza di Cristo affinché non siamo più bambini spalutati e trasportati da un evento di dottrina per la frode degli uomini per l'astuzione che mira ad usare insidie di errore ma dicendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo cioè Cristo dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nel amore è importantissimo capire che la nostra crescita la tua crescita la mia crescita dipende moltissimo da quanto siamo strettamente legati insieme come chiesa e quanto ciascuno adopera i suoi doni per i beni degli altri notati per esempio versetto 15 dicendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo cioè Cristo qui parla di che stiamo dicendo la verità nell'amore questo dicendo la verità non è principalmente per nulla il pulpito questo è fra di noi noi stiamo dicendo la verità quale verità non gli insegnamenti doctrinali quanto le verità di Dio che servono nei nostri rapporti per aiutarci a riconoscere e scartare pensieri falsi per aiutarci a rivedere Cristo quando siamo scoraggiati per aiutarci a vedere i peccati che non stiamo vedendo e quindi una parte essenziale della vera crescita è che stiamo tutti dicendo la verità nell'amore lo scopo non è di essere più bravo che va in giro puntando il dito lo scopo è che desideri il bene vero la crescita degli altri e quindi stiamo costantemente in Colossesi leggiamo che la parola di Cristo dimora in voi abita in voi copiosamente poi estruendoci gli uni agli altri esortandoci gli uni agli altri e questo è veramente la stessa cosa dicendo non il mio parere dicendo la verità e dicendolo nell'amore questo in quel versetto è la base di crescere cresciamo noi tutti in ogni cosa in ogni campo della vita in ogni modo di pensare di agire di fare di parlare cresciamo in ogni cosa quando stiamo parlando gli uni agli altri costantemente la verità di Dio questo fa parte della crescita una parte essenziale però scusate per poter parlare con verità gli uni con gli altri è fondamentale avere rapporti trasparenti cosa voglio dire trasparente mi rendo conto che non ho mai spiegato questo bene trasparente è che io mi apro con te delle mie lotte il mio scoraggiamento le mie frustrazioni la mia rabbia i miei dubbi così tu mi conosci e tu allora senza quello non puoi ma solo allora tu riesci a darmi le verità che mi servono e se abbiamo rapporti dove oh come stai fratello tutto ma non ci apriamo di cuori tu non saprai le verità che servono all'altra persona quindi sono rapporti dove togliamo giù la maschera che è così normale nella società condividiamo pensieri di cuori profondi perché non vogliamo tenere i pensieri spagliati e sappiamo che da soli spesso non riconosciamo i pensieri spagliati questo è trasparenza non c'è vera crescita senza trasparenza perché ognuno di noi io per primo e ognuno di voi abbiamo tutti pensieri storti che gli altri non sanno ma per noi filano e solo se gli altri vengono a scoprire che vuol dire io devo essere trasparente a condividere ma Marco non è così come non è così non è così e mi spiegano con la verità dicendo la verità nell'amore lo Spirito Santo mi illuminerà tramite te e così vedrò e posso abbandonare rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo se noi non abbiamo questo tipo di rapporti di condividere senti dice un merito o un altro io cerco di spiegare a mia moglie e ai miei figli ma non sta funzionando e sono frustrato e loro sembrano scoraggiati ma forse qualcosa non va ma io non vedo quello che non va ma quell'altro con cui condivido onestamente in modo veramente trasparente può dire ma sai cosa adesso ascoltando di sai che il tuo atteggiamento è peccaminoso come peccaminoso e sì e mi mostra quello che non vedevo e così posso ravvedermi e con un cuore nuovo e con appoggio e aiuto magari consigli su come spiegare meglio come comunicare meglio con i figli con mia moglie con me stesso possiamo crescere nell'amore in ogni cosa quanto è fondamentale il versetto 16 che abbiamo visto più volte come chiesa rende estremamente chiaro che la nostra crescita dipende quindi da quanto siamo tutti legati insieme ognuno dando da quello che ha ricevuto da Dio rilego versetto 16 dal quale vuol dire dal Cristo dal quale tutto il corpo ben con esso è unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte produce la crescita del corpo per l'edificazione di sé stesso nell'amore la nostra crescita individuale è estremamente legata e dipende dalla crescita di tutta la Chiesa siamo un unico corpo in Cristo per crescere dobbiamo essere ben connessi e uniti insieme quindi dobbiamo avere forti veri legami fra di noi legami trasparenti legami di cuore legami profondi dobbiamo essere ben connessi ringrazio Dio per i legami che abbiamo ma allo stesso tempo prego che possiamo crescere molto di più nell'essere ben legati poi il versetto dichiara mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte e dicendo questo sta parlando del fatto che ogni individuo nella Chiesa ha da dare ogni individuo e questo perché ogni credente ha doni spirituali vedremo quello fra poco e tutti questi doni servono per produrre la crescita Dio non dà doni in più non dà a alcuni credenti tutto quello che serve e gli altri sono in più no tutti i doni servono per tutta la Chiesa ci sono i doni più visibili meno visibili ci sono i doni più grandi e i doni più piccoli ma sono tutti essenziali sono tutti essenziali il corpo quindi la Chiesa quindi ciascuno di noi cresce bene solo quando siamo ben connessi e ogni singola parte dà mette a servizio degli altri quello che ha da Dio chiaramente questo richiede impegno richiede tempo onestamente spesso richiede sacrificio richiede una mentalità che considera questo è quello che importa invece di ah ma io devo fare questo devo fare quello devo fare quello e vorremmo ma non arriviamo allora non abbiamo una prospettiva eterna allora non abbiamo visioni che alla fine della vita presentandomi davanti a Cristo quello che ho fatto per me per la mia casa la mia famiglia in sé la parte non strettamente spirituale non avrò da presentare a Cristo è il frutto che ho prodotto chiaramente possiamo sprecare la vita facendo buone cose e Dio ci dà quanti avvertimenti per spingerci quindi la Chiesa locale è fondamentale e faccio un commento non per noi però so che questo va in internet ci sono tanti che non hanno la Chiesa e non vedono la necessità ho contatto con tanti che vorrebbero una Chiesa e purtroppo ci sono zone dove una Chiesa sana non esiste ma ci sono altri che no ma non c'è nessuna Chiesa buona inalzandosi come se fossero loro così messi bene e non vedono quanto la Chiesa è essenziale e la Chiesa non è una Chiesa virtuale è una Chiesa dove ci vediamo a quattro occhi è tutta un'altra cosa parlando di quello che serve per crescere è la Chiesa fondamentale è fondamentale una parte fondamentale della Chiesa è la cura che arriva tramite gli anziani pastori pastori e dottori sono termini intercambiabili nel Nuovo Testamento Dio ha dato un ruolo molto importante agli anziani questo leggo alcuni brani ci sono altri primo Pietro capitolo 5 Pietro dice parlando degli anziani di Chiesa esorto gli anziani che sono fra voi io che sono anziano con loro e testimoni delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata pascette il greggio di Dio che è fra voi sovrgliandolo non per forza ma volontieri non per avidità di disonesto guardagno ma di buona volontà non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati ma essendo i modelli del greggio e quando apparirà il sommo pastore riceverete la corona della gloria che non appassisce notate il ruolo che Dio ha dato agli anziani ha affidato le sue pecore dice quelle che vi sono affidati ha affidato le sue pecore a questi uomini per pascere il greggio abbiamo visto questo anni fa pascere non è solo dare cibo ma è curare totale proteggere dai lupi provvedere acqua provvedere cibo provvedere riposo quindi spiritualmente gestire per essere sicuri che la Chiesa ha tutto costantemente quanto è importante questo in Efessini 4 abbiamo letto ma voglio rileggere 11-12 Cristo egli stesso ha dato alcuni come apostoli altri come i profeti altri come evangelisti e altri come i pastori e i dottori per il perfezionamento dei santi e quello porta per l'opera del ministero e per le edificazioni del corpo di Cristo i pastori e i dottori che sono quelli normali oggi devono perfezionare i santi e questa parola se ricordate è quando si preparava una nave per un viaggio essendo sicuro che era tutto a bordo di attrezzatura i veli le corde cose per ripararlo cose per curare chi aveva problemi medici gli strumenti merce tutto equipaggio allora i pastori e i dottori preparano i credenti per il ministero i credenti svolgono il ministero i credenti provvedono per l'edificazione del corpo di Cristo altrove impariamo che gli anziani pastori curano e proteggono la chiesa allora quanto è importante che gli uomini della chiesa crescano in modo che ci saranno sempre uomini qualificati che possano svolgere questo ruolo importantissimo e un altro discorso le qualifiche che non siamo qui a vedere oggi riguardano tutti tranne la capacità di insegnare sono tutti il carattere un uomo sobrio un uomo fedele un uomo santo un uomo che è prudente un uomo che ha visioni perché cura bene governa la propria famiglia ha un cuore fedele alla parola in ogni campo della vita un uomo che sacrifica se stesso per curare quello di solito di lui iniziando con la propria famiglia questo fa parte di governare la propria famiglia e si vede come fa quello ma lui veramente guida la sua famiglia verso Cristo in ogni campo è costante pensa a tutto sa delegare sta crescere e far maturare sta aiutando la moglie a crescere in santità i figli in maturità e si vede se un uomo è pronto ad essere un anziano da come gestisce la famiglia e perciò ogni uomo dovrebbe dire signori che sia o non sia un domani un anziano lascio a te ma io voglio crescere voglio essere quel tipo di uomo voglio avere quel tipo di cuore e capacità e questo vogliamo e quindi preghiamo di crescere sempre noi uomini ad essere uomini così in modo che ci saranno sempre uomini qualificati ad essere anziani quanto è importante che la Chiesa segue la guida di coloro che Dio ha preposto sopra di loro ebrei 13 17 spiega il rapporto fra gli anziani e i credenti della Chiesa notate che gli anziani devono rendere conto a Dio per le anime dei credenti che immensa responsabilità leggo ebrei 13 17 qui vediamo come Dio vede gli anziani i conduttori devono sfegliare sulle anime dei credenti e devono rendere conto a Dio per le anime delle persone che Dio ha affidato a loro che immensa responsabilità che mi fa tremare e ogni anziano dovrebbe tremare davanti alla responsabilità che deve rendere conto al Signore delle anime dei credenti che Dio ha affidato a Lui e agli altri o che possiamo vivere così pregate per gli anziani nelle vostre vite e notiamo quello che Dio comanda ai credenti qui ubbidite ai vostri conduttori sottomettetevi a loro seguite la loro guida ascoltate i loro consigli imitate le loro vite cioè mettendo insieme altri brani anche o che Dio ci dia sempre uomini veramente così qualificati e che noi come chiesa possiamo seguire la guida che Dio ci dà allora abbiamo iniziato parlando della chiesa locale e voglio torno e gli anziani fanno parte ma voglio tornare a tutti i credenti e ho menzionato già i doni spirituali e voglio pensare a questo per poter crescere nessuno può crescere per conto suo Dio non ci fa crescere per conto proprio non funziona abbiamo bisogno gli uni degli altri perché questo è quello che Dio ha stabilito e quindi approfondiamo questo argomento in primo corinzi 12 7 parlando dei doni spirituali che i doni spirituali sono la manifestazione dello spirito santo doni spirituali è lo spirito santo che opera tramite un credente in modo che quello che fa porta frutto allora una persona senza Cristo può usa il dono pratico di dare i soldi perché è molto visibile un non credente o un credente carnale può dare i soldi per l'opera di Dio per motivi carnali ma non avrà beneficio e non porterà vero frutto quando è un dono spirituale quel dono quei stessi soldi vengono usati per portare frutto questo è vero nel insegnare parlare parole incoraggiamento tutto i doni spirituali è quando lo spirito santo perché tu cammini in santità tu cammini ripieni di spirito tu cammini confessando i tuoi peccati così diventi uno strumento utile al padrone e lui opera tramite te lo spirito santo si manifesta tramite te per produrre frutto allora tenendo conto di questo primo corinzi 12 7 dice or a ciascuno è data la manifestazione dello spirito per l'utilità comune lo spirito santo dà doni spirituali ad ogni credente a ciascuno nessuno è escluso ogni credente ha doni spirituali e lo scopo di questi doni è sempre l'utilità comune l'utilità degli altri i doni servono per l'edificazione degli altri gli altri hanno bisogno dei tuoi doni e tu hai bisogno dei loro doni e per questo se non abbiamo rapporti stretti trasparenti dove siamo ben connessi tanti dei doni non vengono sfotti tanti dei doni non vengono sfotti come dico uno dei campi in cui cadiamo più di qualunque campo sono ragionamenti pensieri falsi e se non mi apro con gli altri e non sanno i miei ragionamenti e come vedo le cose non possono aiutarmi e quindi io ho ragionamenti storti ho pensieri storti non sto camminando bene per forza in quel campo ma non esprimo questi e altri li tengo per me e nessuno può aiutarmi e quindi non possono usare i loro doni ma che hanno doni di conoscenza e non possono usare con me perché non mi apro e vice vero non si aprono se ho un bisogno fisico e non faccio sapere a nessuno nessuno può aiutarmi usando doni di misericordia di aiuto quindi i doni spirituali sono fondamentali tutti li hanno e servono per il bene comune un autobrano che parla di questo è il primo pietro 4 10 11 che conosciamo ve lo leggo ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo mette al servizio degli altri come i buoni amministratori della multiforme grazia di Dio se uno parla lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio se uno fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli Amen abbiamo tutti i doni ciascuno che dobbiamo mettere al servizio degli altri eh ma io non ho tempo allora sto camminando in disubbidienza io ho doni tu hai doni dobbiamo mettere al servizio degli altri hanno bisogno e sono parole e sono azioni servizi e devo parlare come se annunciassi gli oracoli di Dio questo è importante devo stare attento a farlo con cura e non mancare nulla e servire nella forza che gli è fornita a Dio affinché in ogni cosa sia glorificato Dio in ogni cosa tutto quello che facciamo stiamo facendo per Dio fate tutto in parole e opere alla gloria di Dio quindi ciascun credente ha doni spirituali e sono da usare per gli altri ma io posso sprecare il tempo posso essere preso con le mie cose posso essere troppo focalizzato sulla mia famiglia e non uso i miei doni e gli altri ne soffrono perché Dio ha dato a me come ha dato a ciascuno questo è un esempio ha dato a ciascuno doni per gli altri per l'utilità comune e se io non uso i miei doni se sono chiuso in me allora la Chiesa ne soffre e se io non ho rapporti aperti onesti trasparenti gli altri non possono usare i loro doni nella mia vita perché non sanno quali sono i bisogni se io mi frusto spesso per esempio con mia moglie o miei figli e non dico agli altri perché non voglio fare bella figura non possono aiutarmi non possono ammonire non possono aiutarmi a capire i peccati i ragionamenti falsi che ho quanto è un ostacolo alla crescita di non avere i rapporti trasparenti dove stiamo veramente condividendo di cuori noi stessi un esempio di usare i doni conosciamo ebrei 10 23 a 25 ve lo leggo riteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare perché fedele è colui che ha fatto le promesse e consideriamo gli uni gli altri per incitarci all'amore e a buone opere non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni hanno l'abitudine di fare ma esortandoci a vicenda tanto più che vedete approssimarsi il giorno come posso incitare all'amore e alle buone opere se non so come sta vivendo una persona se io vedo qualcuno per noi domenica è mercoledì e so ben poco di quello che sta succedendo nella sua vita posso incitare in modo diretto e specifico a quella persona ad amore e buone opere e se uno mi vede come sta andando si abbastanza bene ok e ci vediamo ci vediamo mercoledì poi ci vediamo domenica puoi tu incitarmi all'amore alle buone opere se hai solo un concetto vago della mia vita del mio cuore di quello che mi sta riempendo la testa e pensi no per poter incitarci all'amore e a buone opere dobbiamo essere ben legati ben connessi per poter svolgere questo esortandoci a vicenda tanto più che vedete approssimarsi il giorno del ritorno di Cristo visione stiamo vedendo ma Cristo ritornerà quello che importa che ci prepariamo che produciamo frutto così esortiamoci gli uni gli altri a vicenda abbiamo bisogno degli uni degli altri parlando della crescita un altro aspetto che ho menzionato all'inizio vogliamo approfondire è quello di confessare i peccati confessare i peccati la crescita è totalmente legato a riconoscere e confessare i peccati e vedere sempre più di Cristo ma non c'è crescita senza vedere e confessare i peccati se non confessiamo i peccati non cresciamo anzi ci allontaniamo da Dio leggo i primi versetti che conosciamo di Salmo 32 Beato colui la cui trasgressione è perdonata il cui peccato è coperto Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'inequità e nel cui spirito non c'è inganno mentre tacevo le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno perché giorno e notte la tua mano pesava su di me il mio vigore era diventato simile all'assura di estate davanti a te ho riconosciuto il mio peccato non ho coperto la mia iniquità ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'inequità del mio peccato il suo mister Davide aveva peccato gravamente ha visto il suo peccato da solo Davide è venuto Nathan a parlargli di me avevo bisogno nonostante che era un peccato palese mega grande avevo bisogno di un altro che è venuto per esultare per ammonire e lui ha visto e ha confessato e Dio lo ha perdonato quali sono la maggioranza dei nostri peccati probabilmente pensieri falsi pensieri falsi e poi parole e poi infine azioni da soli solitamente vediamo noi riconosciamo tutti i nostri pensieri falsi entro pochi minuti da quando arrivano no abbiamo bisogno gli uni degli altri a riconoscere pensieri falsi che spesso sono i peccati più comuni che abbiamo e quindi ci ha stabilito Dio questi rapporti stretti che ci aiutano a vedere i nostri peccati anche peccati di azioni o di parole leggo Romani 15 14 ora fratelli miei io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà ripieni di ogni conoscenza capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri pieni di bontà quindi non di peccato quindi camminando in santità quando vedete peccati confessate peccati quindi siete pieni di bontà ripieni di ogni conoscenza il metro che usate non sono ragionamenti vostri ma è conoscenza delle verità di Dio quindi dicendo la verità nell'amore dicendo la verità perché siete ripieni di ogni conoscenza perciò camminando in santità Galetti 6 se uno cade voi che siete spirituali lo rialzate camminando in santità ripieni della conoscenza della verità di Dio siete capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri perché ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno un piccolo metro non è la prima volta che leggiamo questo di ammonirvi gli uni gli altri quanto spesso hai persone nella tua vita e non solo per chi è sposato non solo i coniugi che ti parlano di peccati quanto spesso hai altri fratelli e sorelle che ti parlano di peccati e se la risposta è quasi mai è molto possibile che tu non hai i rapporti stretti abbastanza trasparenti abbastanza per l'ora di vedere e quindi tu stai mancando una parte fondamentale della cura di Dio un mezzo centrale per poter crescere perché stiamo vedendo ripetutamente questo concetto di essere convolti in modo stretto intimo nella vita gli uni e gli altri ma nessuno può ammonirmi se non sanno come sto vivendo e io non posso ammonire gli altri quindi questo è un altro esempio di quanto è importante questo abbiamo bisogno di ammonamenti per vedere i nostri peccati e spesso i peccati sono pensieri storti i ragionamenti storti e per quello abbiamo bisogno di rapporti stretti come sta andando nella tua vita in questo campo hai questi rapporti se no sono da formare molto di più allora un altro brano che ci aiuta è primo Tessalonicesi 5 iniziando con versetto 11 primo Tessalonicesi 5 versetto 11 dice perciò consolatevi gli uni e gli altri ed edificatevi l'uno l'altro come già fate voi già fate questo ma fatelo di più consolatevi gli uni e gli altri edificatevi gli uni e gli altri questo coinvolgimento nella vita gli uni degli altri ma consolatevi gli uni gli altri quando è che abbiamo bisogno di consolazioni? quando abbiamo pesi quando siamo scoraggiati siamo aggravati siamo abbattuti abbiamo bisogno di consolazioni ma se qualcuno non sa che io sono aggravato che sono scoraggiato possono consolarmi? negli ultimi settimani sono stato scoraggiato e sono stato consolato grazie a Dio perché ho condiviso i miei pesi e sono stato consolato ma se non avessi condiviso nessuno mi avrebbe consolato stessa cosa con edificazioni e andiamo andiamo avanti in questo brano 12-13 sono un comandamento alla chiesa ai credenti devono vedere e riconoscere gli anziani che sono preposti sopra loro questi sono gli uomini che Dio ha dato per curare leggo ora fratelli vi preghiamo di riconoscere coloro che si affaticano fra di voi che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera vivete in pace fra voi i credenti devono riconoscere e stimare una somma stima stimare grandemente gli uomini che Dio ha dato a loro per curarli notati il ruolo di quelli che sono anziani e i pastori che sono preposti si affaticano quindi curano i credenti con grande impegno e non bisogna essere un anziano per avere quel tipo di cuore verso gli altri una chiesa sana abbiamo tutti quel cuore gli uni verso gli altri ammoniscono i credenti aiutano i credenti a vedere i peccati e pericoli spirituali ammoniscono i credenti o che Dio ci dia sempre uomini così e poi versetto 14 parli di come curare i vari tipi di credenti leggo 14 ora fratelli vi esortiamo ad ammonire i disordinati a confortare gli scoraggiati a sostenere i deboli e ad essere pazienti verso tutti notate che la cura giusta dipende dalla condizione spirituale della persona prima ci sono i disordinati cosa vuol dire disordinato vuol dire non camminare rettamente secondo gli ordini i comandamenti di Dio quindi vuol dire avere nella vita qualche campo può essere pochi non ne vuol dire tutto alcuni campi in cui c'è peccato certo può essere un peccato visibile come rubare o mentire ma più delle volte è un peccato di carattere orgoglio egoismo pigrizia mancanza di fede questi sono tutti i peccati e uno continua a vivere così lamentarsi criticare sono peccati e una persona che vive così e non cambia continua così è disordinata perché il suo cammino non rispecchia quello che Dio comanda non vuol dire che se uno pecca riconosce e confessa e riprende la via non è disordinata uno è caduto ma subito si confessa a Dio e riprende ma questo è uno che rimane non vuole vedere ignora quel peccato è una persona disordinata e dice ammonire i disordinati parla con loro dei loro peccati perché loro restano lì questo serve abbiamo visto ammonire più volte poi c'è chi è scoraggiato quella persona ha provato più volte ma continua a cadere a fallire e perde speranza quella persona ha bisogno di conforto per essere stimolato ad avere fede in Dio di nuovo e a non rendersi quindi è scoraggiato ho provato tante volte ho provato tante volte sto perdendo speranza quindi ha bisogno di essere di essere confortato poi chi è debole questa persona vorrebbe camminare bene ma non ce la fa è proprio è debole allora bisogna venire accanto e sostenere dalle senso di uno che non può camminare tu vieni e porti un po' del suo peso è un sacrificio vi dico io è un sacrificio voler essere coinvolto letteralmente giorno per giorno nella vita di una persona così un contatto spesso ogni giorno quel stimolo quell'incoraggiamento non deve essere un'ora ma quel 5 minuti la mattina 5 minuti la sera per proprio aiutarlo è vero grazie è vero e tu lo stai fortificando lo stai sostenendo non è una pacca sulla schiena oh signore ti aiuti guarda il signore fratello mio ci vediamo la prossima settimana quello non è sostenere un debole sostenere e portare letteralmente mettere il braccio sotto e portare il suo peso su di te e serve per le persone deboli aggiungo un punto qua per poter riconoscere chi è scoraggiato e chi è debole e a volte chi è disordinato occorre assolutamente rapporti stretti trasparenti perché non ogni scoraggiamento è pubblico non ogni debolezza è visibile perché spesso è molto nel cuore e quindi io posso essere scoraggiato ma non dico non condivido con gli altri e nessuno viene accanto per confortarmi posso essere debole e non dico e nessuno viene accanto per sostenermi posso avere campi della vita che tengo segreto e nessuno sa perché nessuno ha quello porto stretto e nessuno viene accanto per ammonirmi questi mostrano l'importanza dei rapporti stretti leggo anche 15 guardate che nessuno renda male per male ad alcuno anzi procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti la parola procacciare vi ricordate come viene tradotto la parola greca sotto quello di solito perseguitare perseguitare è l'idea di correre dietro per prendere per afferrare quindi tu stai cercando il leone affamare ha fame corre dietro la gazella e corre corre vuole quella gazella e quindi è una cosa di immenso impegno procacciate cosa? sempre non ogni tanto il bene gli uni verso gli altri ma scusami io non posso essere preso con le mie cose e procacciare i beni degli altri se io sono preso con le mie cose non sto procacciando il bene gli uni degli altri quindi anche qui parla di una chiesa che è ben con esso e conosciamo il bene e il bene soprattutto il bene è il bene spirituale per forza e il bene spirituale è aiutare a vedere più di Dio a vedere il peccato a vedere le promesse e questo serve legami forti stretti dove so dove sta la persona per poter dicendo la verità nell'amore dire le verità giuste che servono ci sarebbe molto più da dire ma per ora voglio solo ritoccare le verità che abbiamo visto pregando che non sia oh sì è vero è vero ma che questo possa essere uno stimolo da Dio a farci cambiare a farci prendere posizioni più decisive di cambiare in questo in quello in quel campo della vita abbiamo visto e voglio ricordare che la crescita è fondamentale io sono salvato se io vedo la salvezza così probabilmente non sono neanche salvato la vera salvezza è salvezza per crescere in Cristo ricordiamo che Gesù Cristo il capo della chiesa ha stabilito i mezzi per i quali cresciamo non possiamo crescere come vogliamo noi non funziona non posso dire ma io non ho tempo per quello ma comunque mi butterò più per questo leggerò di più per quanto mi mi do così non mi vedi aprirmi con altri non puoi tu scegliere i mezzi che vuoi tu non funziona la crescere non viene da dentro te la crescere viene da Dio quando tu usi i mezzi che Dio ha stabilito e Dio ha stabilito la chiesa ha stabilito gli uni gli altri ha stabilito la chiesa locale servono uomini qualificati con le qualifiche primo temotio 3 titolo 1 le qualifiche di essere veramente uomini di Dio che camminano bene in tutti i campi della vita in modo che sono di esempio che curano proteggono guidano la chiesa ammoniscono consolano poi preparano i credenti per il ministero e i credenti i santi si impegnano per edificare gli uni gli altri i santi i credenti sono ben connessi in rapporti veri trasparenti dove vediamo il cuore gli uni degli altri in modo che possiamo dare la cura giusta possiamo dare le parole giuste possiamo dire la verità nell'amore gli uni con gli altri la crescita dipende moltissimo dall'uso dei doni spirituali e ciascuno ha doni spirituali e sono stati dati per l'utilità comune e Dio ci comanda a mettere a servizio degli altri i nostri doni non è che ma se ho tempo no Dio mi ha dato a te ho dato per curare gli altri questa settimana ha detto Dio dice quello a ciascuno perché il nostro traguardo è di essere ben connessi per crescere insieme verso il capo che è Cristo Gesù dobbiamo intervenire nella vita gli uni degli altri amonendo i disordinati confortando gli scoraggiati sostenendo i deboli dobbiamo incitarci gli uni e gli altri all'amore e alle buone opere mettendo tutto questo insieme timore di Dio veri forti stretti rapporti gli uni con gli altri ringrazio Dio per dove stiamo ma so che abbiamo molto spazio ancora in cui crescere non non restiamo sì ma grazie Dio per dove stiamo ringraziamo Dio ma abbiamo da crescere cresciamo in quello che Dio ci mostra in questi e tanti altri brani simili e Dio ci farà crescere veramente fino al ritorno di Cristo preghiamo Padre nostro ci ami siamo preziosi per te e come parte di quell'amore tu ci fai crescere ci hai dato tutto quello che serve per crescere in modo sano è una grandissima parte di quello che ci ha dato per crescere è il corpo di Cristo la Chiesa locale gli uni gli altri e certamente per poter crescere abbiamo bisogno di rapporti stretti trasparenti dove conosciamo veramente gli uni gli altri conosciamo il cammino l'andazzo i pensieri i pesi gli scoraggiamenti i peccati gli uni degli altri per poter confortare edificare per poter ammonire per poter consolare in base al bisogno solo conoscendoci possiamo dire la verità che serve nell'amore in Efessini 429 parla di se avete una parola buona che edifica secondo il bisogno ma se non conosco la persona non so qual è il bisogno grazie tanto per la Chiesa che siamo che ci hai dato e ti prego aiutaci a crescere sempre di più per poter vivere utilizzando questi mezzi che tu ci hai dato per veramente crescere per assomigliare sempre di più Gesù Cristo per avere vite che sono sante vite che portano vero frutto per la tua gloria affinché possiamo avere la gioia di Cristo ti prego questo nel nome di Gesù Cristo Amen per la tua gloria per la tua gloria Grazie a tutti.